Il Santo Padre è giunto alle 10.43 in elicottero che ha atterrato al Molo Santa Lucia nell'area del porto. Ad accoglierlo il prefetto Antonella De Miro, l'arcivescovo Corrado Lorefice, il presidente della regione Nello Musumeci e il sindaco di Palermo Leluc Orlando. Poi, con la Papa Mobile, sfilando tra due ali di folla in festa, si è diretto verso il Foritalico che brulicava di fedeli. In 80.000, tutti per lui. Prima di mettere piede nel capoluogo siciliano, il pontefice aveva fatto tappa a Piazza Armerina nell'Ennese, accolto da 40.000 fedeli. «Sono contento di trovarmi in mezzo a voi», ha detto Bergoglio, «è bello il sole della Sicilia». Alle 11.23 la messa al Foritalico. Nel corso della sua omelia il Papa ha ricordato Don Pino Puglisi, il prete del sorriso, ha detto, «e noi abbiamo bisogno di tanti preti del sorriso». Don Pino coronò la sua vita con il sorriso, quel sorriso che non fece dormire il suo uccisore. In quel sorriso c'era la forza di Dio. Ed ancora, Don Pino non viveva di appelli antimafia, ma seminava il bene, tanto bene, che il mafioso non vive da cristiano. «Oggi abbiamo bisogno di uomini e donne di amore, non di uomini e donne d'onore, di servizio, non di sopraffazione, di camminare insieme». Perciò, ha concluso il Papa, ai mafiosi dico «cambiate, smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi, convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo. Altrimenti la vostra stessa vita andrà persa e sarà la peggiore delle sconfitte». Finita la messa, il Papa si è recato in via De Collati per pranzare con 150 fratelli della missione Speranza e Carità con detenuti, ex tossicodipendenti e migranti. La visita proseguirà nel pomeriggio a Brancaccio, dove Bergoglio renderà omaggio al beato Puglisi nella chiesa di San Gaetano e a piazza Anita Garibaldi, dove fu assassinato. Salirà nella casa del prete e incontrerà i familiari. Il Pontefice poi pregherà sulla tomba di Puglisi e nella cappella di Santa Rosalia. Quando alle 16 avrà finito di parlare in cattedrale, si dirigerà al Politeama per l'incontro con i giovani. Alle 17.30 è prevista la partenza. «Dobbiamo partire sempre da Gesù perché la gioia viene da Lui, quindi anche con la preghiera, con questa volontà e voglia di cercarlo, perché ci mettiamo là davanti a Lui e Lui ci riempie di gioia, di Spirito Santo e da lì vengono tutte le altre cose. Accogliamo il Papa, amiamo il Papa, amiamo la Madonna e tutte le parole di Gesù, il Vangelo». «Siamo partite alle 4.30 stamattina per l'amore del Papa». «Siamo partite alle 4.30 stamattina per l'amore del Papa».